Tutti i colori del legno Per informazioni www.montagnafai-da-te.it Magia e fascino, mistero e intrigo Anche solo per un giorno rivivere il Medioevo è un'esperienza straordinaria Il Medioevo è un periodo storico di grandi scoperte Imbottito di grandi personaggi, dal pensiero teologico e scientifico La storiografia è unanime Il Medioevo non fu certo un'epoca buia e oscura Ma al contrario fu un periodo ricco di inventiva Non è un caso che la manifestazione Montecchio Medievale Sia presa d'assalto da migliaia di persone Attratte dal desiderio di partecipare ad un ritorno al passato dal fascino indiscutibile I castelli di Romeo e Giulietta sono lo scenario in cui artigiani, armigeri, falconieri e banchetti Rievocano l'intrigrante vita dei nostri avi Avventurarsi per una strada esterna significava mettere a rischio la propria vita Squadre di armati proteggevano le città Un racconto avvincente Vissuto in prima persona E la religione era onnipresente Ogni giorno gli artigiani aprono bottega Le strade cittadine iniziano ad animarsi E i mercati espongono le proprie mercanzie Quasi sempre all'aperto La religione era onnipresente La religione era onnipresente La religione era onnipresente Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.